episodio 3 ripartire dal bello bene abbiamo acquisito la conoscenza necessaria abbiamo la coscienza di capire esattamente come ci collochiamo nel circolo del mega fast food della musica e quindi adesso pensiamo alla bellezza ma che cos'è il bello cosa vuol dire essere belle cosa ci serve la bellezza dovremo vivere immersi nella bellezza dovremo vivere nei riferimenti assoluti in quelli più alti dovremo avere contatto con il migliore possibile disponibile e questo non ha importanza se lo dobbiamo ricercare né in qualcosa dell'anno scorso di 50 anni fa la bellezza non ha scadenza essere permeati dalla bellezza porterà solamente dei vantaggi e in maniera automatica senza che noi in realtà stiamo facendo alcun tipo di sforzo la bellezza diventerà contemporaneamente tre cose per noi il punto di partenza diventerà il punto di arrivo e anche il punto da superare è il punto di partenza perché da lì che nasce tutto nasce l'arte nasce dal desiderio di imitazione voglio emulare voglio riprodurre voglio cercare di fare qualcosa anche io ho ascoltato questa musica e vorrei cercare di farla anche io voglio usare anche io questo tipo di strumento comunicativo ho visto quel quadro ho visto la mano del pittore e ho voglia di riprodurre quella gestualità e quindi per forza di cose se siamo circondati da cose belle avremo dei riferimenti belli e cercheremo di fare qualcosa di bello è contemporaneamente un punto di arrivo è un punto da superare che vanno praticamente di pari passo è chiaro che io non mi posso accontentare di aver disegnato una schifezza qualsiasi se davanti a me ho le opere che hanno ispirato proprio la mia urgenza creativa è chiaro che io non uscirò con un pezzo che fa schifo se il mio riferimento è un album dei getrotal insomma se i riferimenti sono alti finiremo con chiedere a noi stessi l'impossibile e quindi otterremo il massimo più è alto il livello del nostro modello di ispirazione più noi pretenderemo dalla nostra replica saremo i primi critici di noi stessi sarà difficile accettare un qualcosa che non ci convince del tutto la ricerca del bello e anche la biografia di chi il bello l'ha fatto è educativa anche per un altro motivo perché è piena di riferimenti a studi difficoltà insistenza impegno fatica mancanza di riconoscenza nell'immediato e questo è molto importante lo è ancora di più soprattutto in un'epoca nella quale tutto è fast non solo il fast food ma anche il successo è fast ma anche le cadute sono fast il percorso fatto di impiego energetico di studio di sofferenza di fallimenti è già di per sé un grande filtro è uno strumento per misurare la nostra ambizione e anche il nostro talento e quindi così facendo troveremo la strada per il successo questo è il bello probabilmente no e andrà benissimo perché invece di esserci centomila proposte ce ne saranno 100 che si sono auto selezionate e quindi ci arriveranno dei prodotti di livello più alto e quelli che non ce la fanno nel frattempo che atteggiamento avranno avranno un atteggiamento di riconoscenza nei confronti di quelli che ce l'hanno fatta in un sistema pulito in un sistema pulito non c'è quell'invidia allarmante dilagante che ovunque sembra che l'invidia possa giustificare qualsiasi cosa e sembra che possa muovere qualsiasi tipo di idea se ho mollato durante il percorso perché non mi sentivo all'altezza di quelli che stavano competendo nella mia stessa gara posso avere quell'invidia quella quella buona posso essere dispiaciuto ma alla lunga mi dovrò arrendere all'evidenza del fatto che sono più bravi di me in quella cosa e allora io sarò più bravo in altro ma l'esperienza in ogni caso ci avrà cambiati ci avrà resi dei consumatori più attenti più sensibili non ci potranno prendere in giro così facilmente non gli basterà buttare sotto buttare sotto delle basse da discoteca o da autoscontro è una vocina gracchiante o biascicata con qualche effetto è dietro delle mega didascalie scritte dai vari giornalisti del caso e questo dovrebbe essere sufficiente ad accreditarci quella persona in quanto artista o in quanto nuovo de andrè non sarà sufficiente perché più ne sai e meno possono prenderti in giro piccolo aneddoto chaos one credo a basement caffè gli chiedono ma quindi tu sei veramente sicuro di poter di poter insomma sgamare un album che è scritto con l'inganno che non è onesto e lui dice ma va veramente sì è chiaro che mi posso sbagliare ma veramente sì generalmente e dicono ma come fai a sapere l'intenzione dell'artista e lui gli dice quello che sanno tutti quelli che sono campati hanno sono cresciuti hanno studiato nell'arte di qualsiasi tipo sono 25 anni che scrivo musica dopo quattro parole mi rendo conto se il testo di quella canzone rap è veritiero o no quindi abbiamo detto che l'abitudine alla qualità genera una capacità di critica migliore e quindi anche qui maggiore consapevolezza di quello che ci stanno propinando oltretutto se sono competente in qualcosa e so di esserlo questo per una questione di distacco ed è logico rende in me più forte la consapevolezza di non saperne altrettanto su un altro argomento su un genere sulla valutazione tecnica di un cantato sulla valutazione tecnica di un altro strumento per esempio e quindi anche lì mi renderà più accorto più curioso più silenzioso il bello è importante perché è eterno e non è collocabile geograficamente il bello non è bello solamente nel ciringhito a luglio non è bello solamente nella discoteca novembre il bello è bello sempre non è bello solo con gli amici o senza gli amici e la cosa bella del del bello scusate il gioco di parole che evolve con noi ascoltavo una canzone vent'anni fa e mi piacevano alcune parole e mi piacevano alcuni significati e mi piacevano magari delle ritmiche o un ritornello negli anni evolvendo le mie competenze evolvendo il mio vocabolario evolvendo la mia sensibilità di quella stessa canzone capisco che per tanto tempo ho tralasciato degli aspetti che erano invece quelli magari più belli e tra cinque anni sarò disposto a cambiare nuovamente idea ecco perché ce la portiamo dentro la bellezza ce la portiamo dentro la bellezza ci fa rinnamorare di lei ogni volta in maniera rinnovata ogni volta in maniera più forte ogni volta che apprezzi un'opera di nuovo ti stai rinnamorando di quell'opera ma stai anche riconfermando il tuo criterio di valutazione del valore di quell'opera quindi quando ne parlerai con qualche di un altro ne parlerai con ancora maggiore fermezza proporrai quel lavoro con maggiore sicurezza guarda che sono vent'anni che io studio quella canzone guarda che sono vent'anni che guardo quell'esposizione guarda che sono vent'anni che leggo quelle poesie e a volte naturalmente capita al contrario a volte capita di riascoltare dei pezzi ai quali siamo legati che facevano parte della nostra adolescenza collocati temporalmente in maniera precisa riascoltiamo oggi quei pezzi e ci rendiamo conto che non avevano un valore così assoluto avevano appunto valore all'interno di quella situazione di quella nostra memoria e non per questo dobbiamo andare in giro a dire che sono dei pezzi meravigliosi possiamo semplicemente dire che sono dei pezzi che hanno una dignità che sono dei lavori che vanno rispettati che hanno avuto un'importanza nella nostra formazione personale e basta certo non è facile accettare che quello che per tanto tempo ci è piaciuto ci ha accompagnato vent'anni dopo dobbiamo purtroppo accettare dire che invece non è così tanto ma ehi attenzione guardiamo il bello se questo succede è perché ci siamo evoluti sarebbe terribile se non accadesse se io trent'anni dopo pensassi esattamente le stesse cose di un pezzo che ascoltavo a 15 anni sarebbe abbastanza grave e più che parlare del pezzo probabilmente parlerebbe di me